Airtek.com. Technology Networks since 1982. Sistemi brevettati. Spiro. Piastra a capelli aspirante. Innovativo sistema. Di protezione professionale. Il rivoluzionario dispositivo, che, trasforma. La tua normale piastra. In una straordinaria. Piastra aspirante. Un accessorio semplice. Ma eccezionale. Per la tua salute. E della tua cliente. Indispensabile. In tutti quei trattamenti. Che esalano sostanze chimiche. Al passaggio della piastra calda. Di facilissima applicazione. Si adatta a tutte le piastre. Leggero. Solo 70 gr. Sulla mano. Tubo flessibile e molto maneggevole. Tubo snodato sia sopra che sotto. Trasforma la tua piastra in aspirante. Una nuova fase è iniziata. Ostenta intelligenza professionale. La tua cliente. Non può che apprezzare. Oggi grazie a internet. E alle trasmissioni televisive. Le tue clienti conoscono la realtà. Sui prodotti per capelli. Definiti naturali. Eco. Bio. Green. Che non sono. Sempre meglio degli altri. Sanno che la IARC. Agenzia internazionale ricerca cancro. Ha dichiarato 47 sostanze. Che possono essere presenti nei prodotti per capelli. Certamente cancerogene. E non forse cancerogene. Sanno che un parrucchiere. Ne respira un po' tutti i giorni. Per 45 anni di lavoro. E non possono che apprezzare. Le tue attenzioni. Chi dimostra consapevolezza. Professionalità. Non devi più vergognarti. Se tuteli la salute. In tutte le professioni lo fanno. La tua cliente. Non si spaventerà se ti tuteli. Lo fanno tutti. La tua cliente. Non penserà. Che stai usando prodotti scadenti. Ma penserà. Che sei un vero professionista. Un professionista consapevole. Un professionista intelligente. Capace di pensare. Sia a se stesso. Ma anche alla salute della cliente. È ora di pensare in un modo nuovo. Spiro. Piastra capelli aspirante. Trasforma la tua piastra in aspirante. Advanced Performance Air Tools. Una scheda elettronica. Con microprocessore e software dedicato. Per un risparmio elettrico. Dotati del sistema Soft Start. Per diminuire i consumi. Inoltre. Sistema a doppio raffreddamento. Per aumentare la durata dei motori. Lunga durata nel tempo. Attenzione. Non tutti i rivenditori. Grandi. O piccoli che siano. Per nostra scelta. Possono venderti i nostri articoli. Per qualsia informazione chiamaci. Che siamo la ditta produttrice. Technology Networks since 1982. Sistemi brevettati.